HQF presenta il pecorino romano DOP Questo è l'unico pecorino romano prodotto nella provincia di Roma, frutto di una produzione artigianale dal taglio alla formatura fino alla salatura. Nasce da materie prime prodotte localmente, sottoposta da curate e continui controlli. La filiera corta e la qualità del latte, insieme alla lavorazione artigianale dove tutte le fasi vengono svolte manualmente, permettono di ottenere prodotti unici dal sapore caratteristico. L'azienda conferitrice del latte di pecora è all'interno della rete agricola. Questo prodotto contiene solo il 3% di sale rispetto al 5% presente in altri pecorini romani DOP. Ingrediente principale di ricette come la pasta alla carbonara o cacepepe per un sapore autentico e ricco. Può essere assaporato anche come antipasto accompagnato da frutta fresca, noci o le confetture della rete agricola, che contribuiscono ad un contrasto di sapori per un'esperienza sensoriale unica. Per maggiori informazioni sul nostro pecorino romano DOP, visita il nostro sito. High Quality Food. L'Italia sulla tua tavola.